ciao ragazzi bene allora oggi vi vorrei parlare del quarto fattore necessario per poter iniziare con i miei cani da guardia e io l'ho individuato nel voler investire in sicurezza familiare cosa significa voler investire in sicurezza familiare significa partire diciamo dall'inizio del percorso con un cane che abbia già delle performance in grado di come dire garantirsi poi un certo risultato quando diventerà adulto e affrontare tutte le varie adempienze che sono necessarie dal sistemare le condizioni ambientali da farsi questo minimo di cultura cinofila per poter gestire al meglio il cane da non rovinarlo nei suoi istinti insomma bisogna fare un percorso vi faccio un esempio io allevo e seleziono il pastore dell'asia centrale aborigeno e lo seleziono sia come cani antilupo che sia come cani antiladro ecco investire in sicurezza familiare non significa partire con qualsiasi pastore dell'asia centrale trovato in qualsiasi posto di qualsiasi selezione perché è facile spiegare questo se io ad esempio ho un cioè se pratico salto ostacoli coi cavalli per dire e sono un campione del mondo o un cavallo e non è che questo cavallo è uguale al cavallo del mio vicino di casa che ha la passione dei cavalli e ne ha comprato uno che li bruca in giardino ci sono delle differenze enormi sia come qualità di animale sia come prezzo di animale oggi un cavallo che possa garantire delle per delle performance ai campionati mondiali costerà almeno un milione di euro per non dir di più un cavallo che bruca nel prato lo posso trovare specialmente in questa stagione che andiamo verso l'autunno facilmente a 1200 euro quindi vedete questa grande differenza ma il prezzo non è tutto pensate quanto si deve allenare un atleta per arrivare ad ottenere determinati risultati deve investire denaro deve investire tempo deve investire impegno superare molte difficoltà al contrario di uno che per una semplice passione dei cavalli ne compra uno lo mette a brucare nel prato ogni tanto lo striglia un po e magari ti mette una sella da farti una farsi una passeggiata e li potrei creare vi potrei fornire centinaia di esempi voler essere competitivi in una gara di rally non significa andare in una concessionaria e acquistare un'automobile di serie e poi presentarsi appunto alla partenza c'è da dire che io a volte vedo persone che partono volendo poi ottenere dei risultati nella guardia con i loro cani come si presentassero come la con la bianchina di fantozzi e volessero in qualche modo volessero in qualche modo essere competitivi nello stesso tempo ci sono e continuano a esserci persone che proprio così come mentalità faticano molto meno a investire nella struttura quante persone io conosco che fanno fare dei box di servizio meravigliosi investono dei patrimoni nella recinzione questi box li fanno addirittura zincare mettono alcune porte automatiche eccetera spendono per la struttura venti volte di più di cosa potrebbero investire per il cane e queste sono cose ridicole ma sono veramente comuni io avevo oggi non ho più ma avevo e ho avuto un cliente per molti anni che era molto facoltoso non non c'erano problemi per lui lui aveva solo macchine di alta cilindrata per lui per i figli investiva nell'azienda chissà che cosa ogni volta che gli dovevo vendere un cane era sempre una discussione per 500 euro tendeva sempre a scegliere quello che costava di meno e illudersi che anche spendendo di meno avrebbe avuto le maggiori le migliori performance voi immaginate solo che chi fa il cinofilo di professione normalmente spende tanto e si accontenta di piccoli risultati però sono risultati concreti come potrebbe essere possibile che il semplice appassionato di cani vorrebbe spendere poco e sogna e si immagina di ottenere chissà che risultati magari gli stessi che ha visto all'interno di un film della tv o del cinema di conseguenza è molto importante questo ieri vi ho parlato che è necessario avere la capacità finanziaria per poter poi concretizzare certi progetti oggi invece vi sto dicendo che non basta la capacità finanziaria ma bisogna anche avere intenzione di investire in sicurezza familiare adottare un cane di una razza che vi piace magari uguale a quella che seleziono io o selezionano altri allevatori per un certo lavoro e solo perché della stessa razza immaginarsi di poter risolvere il problema della sicurezza familiare tramite i cani è una vera e propria illusione perché poi man mano che si va avanti nella cinofilia e questo l'hanno ho già capito anche molti miei clienti avere un cane performante un cane in grado di offrire poi certi risultati non è che il primo passo da fare cioè tipo non mi presento alla partenza con la bianchina di fantozzi perché se no ho già perso in partenza parto con una macchina competitiva e poi bisogna vedere io come me la saprò cavare a fare tutta la corsa e lì è uguale non si tratta di corsa si tratterà di un percorso quindi devo avere almeno un minimo di informazione devo ecco perché io ho creato questi video corsi sui cani da guardia devo poi stare in contatto con l'allevatore devo essere pronto se c'è da fare delle modifiche magari alla recensione alla struttura farle devo mettere un minimo di impegno nella gestione all'inizio e devo in poche parole come tutti i percorsi noi nel momento in cui noi ci mettiamo in testa non solo di prendere un diploma di prendere una laura di fare un corso che finisse con una specializzazione noi seguiamo un percorso il parco il percorso a volte è faticoso ha degli intoppi ci crea a volte anche delle difficoltà per non dire delle sofferenze ma su 100 che partono almeno 20 30 40 raggiungono l'obiettivo se hanno messo l'impegno necessario e col cane la guardia se non si vuole parlare di semplice fantasie bisogna fare nello stesso modo quindi questo per spiegarvi che al di là di quelli che sono i requisiti indispensabili 10 requisiti che vi ho parlato nei filmati precedenti oggi concludo con il quarto fattore indispensabile fattore necessario per poter iniziare con i miei cani da guardia ed è proprio questo cioè capire cosa significa investire in sicurezza familiare non prendere il cane che mi piace per colore prendere il cane che avanzato il mio amico del cugino dello zio eccetera non prendere un cane solo perché c'è un petigree e sul petigree c'è scritto che è proprio nella razza uguale a quell'altro che noi abbiamo visto tanti anni fa che faceva la guardia o vediamo sui filmati di youtube piuttosto sui vari i vari profili facebook e instagram eccetera eccetera no quello non c'entra niente con investire in sicurezza investire in sicurezza familiare significa partire con un progetto ben preciso che ovviamente deve partire con un cane performante che ci dia ci offre delle possibilità elevate di poter poi raggiungere i nostri obiettivi ma poi anche impegnarsi un po' cioè nel senso ed essere disponibile ad applicare con costanza determinate regole perché se no anche se il cane è poi molto performante siamo poi noi a non esserlo e siamo poi noi non in grado ad organizzare una piacevole convivenza con questo animale fra la nostra famiglia appunto e l'animale stesso di conseguenza oggi mi interessava spiegarvi bene questo particolare bene anche oggi vi ringrazio tanto per avermi ascoltato e vi auguro a tutti buona giornata a presto